buongiorno amici pescatori oggi lo staff di top game fishing vi presenta il tuna float l'unico galleggiante ad alta visibilità per big game disponibile sul mercato nelle versioni large e small adesso andiamo a vedere il suo funzionamento il tuna float nella versione large ha una galleggiabilità garantita fino a 800 grammi di zavorra il suo posizionamento sulla lenza madre è semplice e molto veloce al momento della boccata del pesce grazie al nostro sistema di sgancio il galleggiante scorrerà sul filo segnalando le fughe intraprese dal pesce e supportando così angla e le skipper nel combattimento il tuna float nella versione small con i suoi 400 grammi di galleggiabilità è particolarmente indicato per un drifting più leggero i nostri sistemi di codifica ci permettono di individuare immediatamente il galleggiante connesso alla relativa canna ci permettono inoltre di sapere se stiamo utilizzando un'escaviva e a che profondità stiamo pescando una volta che il galleggiante è posizionato sulla lenza madre siamo pronti per la messa in acqua a tutti i sgancio e che corretti qui si vengate è solo si vengate a un'escienso una volta a un'escienso che si vive in un Sometimes che succede a un'escienso ci sono che si vengate a un'escienso